Gli impegni del Sassari nel round 2 di IEHF Cup in campo il prossimo 24 ottobre la formazione Le Sarda per recuperare la gara contro la leader Coop Teramo riducono a 2 il numero di match in programma nella seconda giornata del campionato di Serie 1 femminile Al palazzetto dello sport di Nuoro le padroni di casa dell'HC Nuoro e le neopromosse del mestrino vanno a caccia dei primi punti stagionali dopo un esordio con sconfitta La partita in terra Sarda sarà arbitrata dai signori Cozzula e Manca e avrà inizio alle ore 17 Per Iomi Salerno e Lombardi Ecologia Conversano c'è invece in palio il primato momentaneo in classifica in attesa proprio del match del Sassari Il incontro tra Campane e Pugliesi si disputa al Palapalumbo Entrambe le squadre hanno centrato un successo nella prima giornata inaugurale del massimo campionato femminile E dunque sono appaiati a 3 punti si comincia a Salerno alle 18.30 sotto la direzione della coppia Mastro Mattei Buonacore